metto all'angolo se non prendo niente a me stai a vedere non lo sprega bravo portini ciao ciao vedi del Piero se non fa il cavolo a bici 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 Sì, sono due. Grazie a tutti Grazie a tutti Non ti preoccupare, non va a nessuna parte Ok, stanno insieme Vai vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bye bye Grazie a tutti Grazie a tutti Bene, cerchio 28 Cerchio 28 Fai, fai Camille, vai, vai tranquillo Sì, 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 apposta veramente Il cavalletto è difettoso Cambia, cambia Fai, 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 fai... fuori 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 fa sky stasera grazie fuori 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 stasera scarpano Grazie a tutti. 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 Bello. Grazie a tutti. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 a tutti.